Sono iniziati lo scorso 2 luglio i saldi estivi e a due settimane dall'avvio degli sconti è così tempo di un primo bilancio, ancora una volta, tra luce ed ombre. Sono iniziatisi da circa due settimane, siamo in linea con lo scorso anno, quindi bene ma non benissimo. Non si inizia a vedere proprio niente, anzi, anzi. Secondo le stime dell'ufficio studi di ConfCommerce lo scontrino medio della provincia di Arezzo sarà di 186 euro a famiglia per un valore d'affari complessivo di oltre 16 milioni di euro, visto che secondo l'associazione di categoria solamente 6 famiglie su 10 acquisteranno in saldo. Diciamo che stanno andando benino, chiaramente troppo presto, anche perché inizia l'estate il 21 giugno, non si possono fare i saldi il 2 luglio, a me continuano ad arrivare cose nuove, quindi sono partiti benino, per carità, però non si possono fare i saldi a 20 giorni dall'estate, 15 giorni dopo che è iniziata l'estate. Qui qualcuno deve prendere provvedimenti perché non è possibile. Secondo le proiezioni di Confesercenti invece gli acquisti medi pro capite si aggirano tra i 150 e i 170 euro. Difficile ancora comunque tornare agli affari del periodo pre-Covid. Non male, ma niente di più di quello che è stato lo scorso anno e un po' sotto il 2019, che è l'anno di riferimento. Si fatica ancora a tornare a livelli pre-pandemia? Anche lì dipende, ci sono stati dei mesi in cui abbiamo lavorato molto bene, tipo aprile-maggio, la prima metà di giugno, dopodiché si è di nuovo fermato, marzo per esempio era stato un cattivo mese. Stiamo tutti rincorrendo il 2019, siamo lì vicini ma non ancora, stiamo tentando di agganciare il 2019 ma ancora non siamo riusciti. È un momento un pochino particolare, bisogna anche mettersi dalla parte nostra, che è la peggior parte di tutti, specialmente in questo mondo qui, dove gli armadi straboccono di roba, la gente ha tanti altri pensieri e pochi possono pensare a vestirsi per apparire in un determinato modo. Oggi bisogna guardare più il dentro che il fuori. I saldi è come tutto quello che sta succedendo ora a Naspano, però possiamo essere un contentino, diciamo come ci danno un contentino, posso dire solo questo.